buongiorno benvenuti al nostro consulto spazio di approfondimento aspettando il tg parliamo della nona edizione del festival borgate dal vivo uno nessuno multiverso un titolo molto significativo ne parliamo con il direttore artistico alberto milesi grazie grazie a voi per aver accettato il nostro invito e benvenuto grazie è un piacere tornare un non edizione un festival che va a conoscere parti del territorio le borgate si parte dall arena romana di susa per finire poi ad al mese una chiusura storica mi raccontava poco fa 28 giugno 31 agosto e quindi è un ricco calendario si è un ricco calendario quest'anno tra spettacoli dal vivo eventi collaterali sono circa 50 appuntamenti quindi sarà un'estate intensa si girerà letteralmente per il territorio cosa succederà si si girerà perché come accennavamo prima oltre il festival che è un festival itinerante sono 20 comuni coinvolti tra provincia di torino molti in valle di susa ma anche provincia di cuneo verbano così ossola ci saranno anche degli spettacoli che letteralmente saranno in cammino quindi avremo cinque artisti che faranno cinque tratti di via francigena e sarà uno spettacolo itinerante per valorizzare anche dei nuovi aspetti del territorio e ognuno di questi cinque tratti andrà poi a finire con uno degli spettacoli serali del festival borgate dal vivo quindi cerchiamo di allargare ancora di più insomma il legame che è sempre molto stretto con tutti i comuni con il territorio e con il nostro pubblico ho citato all'inizio uno nessuno multiverso una situazione pirandelliana se una situazione pirandelliana che avevamo in mente da un po uno nessuno sono poi le caratteristiche che ci portiamo avanti del festival no che è molto peculiare perché porta grandi spettacoli grandi nomi della cultura dello spettacolo del vivo della musica del teatro in piccoli comuni al di fuori dei soliti centri urbani multiverso perché sempre di più diventa multidisciplinare interessa dei territori sempre più ampi e come abbiamo detto prima quest'anno ci saranno in più delle camminate quindi davvero per tutti per tutti i gusti quindi musica teatro circo contemporaneo è una commissione di generi veramente leggevo prima parte degli appuntamenti ripetiamo dal 28 giugno al 31 agosto alcuni nomi in programma alcuni nomi dai speriamo un po di nomi iniziamo il 28 giugno dall'arena romana di susa secondo noi in luogo un luogo veramente magnifico ed è il terzo anno di fila partiamo partiamo da susa con jack savoretti jack savoretti un artista quindi internazionale il cantante italo britannico che tra l'altro farà anche un tour con zucro quest'estate poi avevamo margherita vicario che suonerà con l'orchestra di ravenna questo per noi una grandissima opportunità una grandissima collaborazione perché il festival di ravenna è uno dei più importanti a livello nazionale e poi avremo daniele silvestri in quota shesal torniamo a portare concerti a 1800 metri sopra bardonecchia paolo iannacci mauro pagani che suoneranno invece al forte di xil un altro luogo veramente importante per noi ma per tutta la provincia di torino ecco borgate dal vivo in cammino protagonista anche il forte di xil in che modo si questo è il terzo anno in cui rivelio quindi la nostra associazione insieme al festival borgate dal vivo si occupa proprio della gestione del forte di xil siamo riusciti a riaprirlo insieme a una rete del territorio molto ampia che coinvolge la regione piemonte il comune le associazioni fondazione piemonte dal vivo porteremo quest'anno 17 spettacoli dal vivo non chiedermeli tutti perché non me lo ricorderò basta le chiediamo magari qualcuno ma le immagini che stiamo già vedendo che la regia ci sta proponendo insomma sono iconiche legate alle location in cui l'anno scorso abbiamo avuto gualazzi che ha suonato al forte di xil un concetto sold out quest'anno abbiamo già citato mauro pagani 40 anni di cruza de ma un omaggio che faremo al grande de andrea faremo anche un omaggio a battisti con rita marco tulli peppe servillo e poi abbiamo detto inaugureremo con paolo iannacci quindi un grande grande musicista un grande concerto e poi ci saranno anche le mostre che andiamo a realizzare al forte di xil quindi sarà proprio un programma dentro il programma avrebbe da chiedere che che non ci sia al festival per capire il programma ecco non ha edizione un'edizione e quindi insomma un festival che attrae parecchio un festival che richiama spettatori che richiama anche cultura e l'arte il richiamo dell'arte in un certo senso un festival possiamo dirlo per il momento ancora ancora in crescita lo è nei numeri del pubblico e di questo siamo molto contenti credo che sia la cosa più importante quest'anno poi c'è di nuovo una crescita anche dei comuni in reti 20 amministrazioni comunali che collaborano sono comunque tante e quindi segno che il progetto in qualche modo risponde anche un'esigenza è un bisogno di portare di trovare cultura ma soprattutto spettacoli dal vivo anche in queste zone in questi territori poi insomma andare a scoprire forti di xil sull'arena romana o 1800 metri sopra bardonecchia degli spettacoli di questo genere sicuramente un valore è un valore aggiunto ecco sono state trovate anche delle location probabilmente particolari per un festival perché comunque accennava prima a 1800 metri se non sbaglio ci si deve organizzare per arrivare a 1800 metri si deve organizzare tra l'altro concerto di daniele silvestri che il 24 di luglio un mercoledì alle 14 quindi non è proprio semplicissimo però la logistica richiedeva che fosse così è una location raggiungibile o a piedi un seggio via quindi c'è anche una come dire un'attenzione dal punto di vista ambientale che tra l'altro dei temi del festival e sì andiamo a scegliere delle location la cosa molto bella è che in questo caso così come per jack savoretti sono stati gli artisti a interessarsi proprio riguardo queste location daniele silvestri che ha visto le immagini l'anno scorso abbiamo fatto suonare lì francesca michelin e ci ha contattati vorremmo portare daniele silvestri vorremmo andare a suonare lì quindi questo secondo me è un valore aggiunto molto bello molto importante per noi per il nostro pubblico anche per i comuni che coinvolgiamo se ci pensi un bel riconoscimento per loro saper che daniele silvestri vuole venire a suonare bardonecchi c'è anche un impatto visivo un impatto col panorama perché probabilmente in parte delle location specialmente se si va in alta montagna auspicando naturalmente che il tempo sia favorevole le previsioni meteo siano favorevoli insomma l'impatto che può che può dare l'arte la musica in molti casi ma anche l'arte legata alla multidisciplinarità come accennava prima sommata l'impatto del panorama deve essere uno spettacolo sotto certo aspetti magari anche unico si è qualcosa in più ricolto nel segno un po uno dei valori aggiunti del festival che permette di vivere un'esperienza a 360 gradi quindi c'è quella della camminata se vuoi poi anche raggiungere chesal sopra bardonecchi a piedi quindi c'è un aspetto naturalistico paesaggistico e sono location come insomma parliamo del concerto di daniele silvestri non c'è un palco quindi in qualche modo viene anche un po ad abbattersi la distanza fra spettatori e artista certo e questo è molto bello il nostro pubblico l'apprezza ci si sente tutti insieme ci si sente tutti insieme e si vive secondo me lo spettacolo dal vivo in un'altra maniera senti ottava edizione questa è la nona c'è già qualcosa che come si dice bolle in pentola per la decima ma in realtà proprio di concreto no perché c'è ci sono tante cose nel frattempo però sicuramente l'idea è per la decima edizione di fare un'apertura molto importante vediamo se sarà sempre susa e di fare qualcosa che possa in qualche modo festeggiare al meglio dieci edizioni di questo festival mi raccontava prima che la chiusura storica del festival è sempre dal mese perché sì ormai qualche anno che chiudiamo dal mese dove c'è uno spazio un parco verde quindi di nuovo uno spazio che andiamo a scoprire e a valorizzare che si presta molto bene a fare un concerto di chiusura uno spettacolo che diventa anche una grande festa per tutto il nostro pubblico abbiamo avuto i modena city ramblers abbiamo avuto gli africa unite quest'anno avremo joevan e quindi sarà proprio una festa in musica che chiude che chiude bocate dal vivo e bocate dal vivo è comunque è un'organizzazione sostanziosa per quello che riguarda il programma l'abbiamo detto dal 28 giugno il 31 agosto diversi artisti è un'organizzazione che si muove dal punto di vista tecnico dal punto di vista organizzativo per portare in scena comunque un prodotto di qualità sì lavoriamo tutto l'anno non soltanto al festival tu hai citato gli artisti proprio in questi giorni sto chiudendo alcuni bandi quindi scartabellando il calendario ti posso dire sono 105 artisti quest'anno che andranno in scena per bocate dal vivo quindi un numero considerevole voglio ringraziare il mio staff perché lavoriamo tutto l'anno non soltanto il festival estivo che è il progetto principale ma anche il forte di exilles alle stagioni teatrali a vigliana rivalta a book immersion che è una progettazione che unisce lo spettacolo dal vivo ai libri e quindi come avevo detto qualche giorno fa quando abbiamo fatto la conferenza di lancio secondo me questo è un bel segnale perché siamo un gruppo che anche numericamente continua a crescere la sede della nostra associazione in valle di susa è particolare a bussoleno e tutto l'anno riusciamo a sviluppare progetti a vivere lavorare di cultura di spettacolo dal vivo e non è una cosa del tutto scontata secondo me c'è tutto un lavoro dietro oltre a quello che poi si vede sul palcoscenico assolutamente i spettacoli 28 giugno 31 agosto siamo in chiusura 28 giugno 31 agosto festival dal festival borgate dal vivo festival grazie ad alberto milesi direttore artistico del festival è stato con noi e grazie a voi per averci seguito